Un nuovo bando legato alla rigenerazione, alla possibilità cioè di riqualificare tessuti urbani della città di Belluno. Sul piatto un piano da 20 milioni di euro per la ristrutturazione tra gli altri dell'ex caserma di Vigili del Fuoco destinata a ospitare uffici comunali e associazioni delle scuole verdi di Cavarzano e la riqualificazione del polisportivo. È una importantissima opportunità per dare continuità anche al progetto di rigenerazione che oggi sta interessando a importanti parti della città e quindi il Comune tramite gli uffici comunali si è attrezzato. Una corsa contro il tempo, la scadenza per la presentazione degli studi di fattibilità che consentiranno di richiedere i finanziamenti è fissata per i primi giorni di giugno. La programmazione di questo bando prevede dei finanziamenti di lungo periodo quindi è già finanziato il 2021 ma le risorse sono allocate fino al 2035. Dieci progetti sui quali si sta lavorando che saranno valutati dal Dipartimento degli Enti Locali del Ministero dell'Interno. In autunno la pubblicazione dell'elenco dei comuni che potranno accedere ai fondi e da quel momento decoreranno i termini per la definizione di progetti esecutivi e definitivi. Tra gli interventi in cantiere è anche quello della realizzazione del laghetto artificiale sul Nevegall. Il laghetto sul Nevegall ha come funzionalità quella di andare incontro a desigenze di eventuali incendi boschivi ma non solo ma può essere un lago con la caratteristica di attrazione turistica. Il nuovo bando offre la possibilità di interventi sulle strutture sportive della città. Dopo il rifacimento della pista atletica ci concentreremo sugli spazi delle tribune quindi la tribuna principale e la tribuna secondaria anche con un occhio di riguardo per quanto riguarda gli accessi quindi il passaggio dal parcheggio esterno alla struttura e l'impianto sportivo.